Buonasera a tutti, ben arrivati a questo incontro organizzato dal progetto Melting Pot Europa. Siamo felici di ospitare Giuseppe Campesi, autore del libro Polizia di frontiera, Frontex e la produzione dello spazio europeo. Devo dire che presentiamo questo libro in un momento attuale, quindi è un libro che sicuramente ci aiuterà a capire quali sono gli scenari futuri e ci darà anche tutta una serie di elementi e di strumenti interpretativi utili per capire la situazione attuale. È un libro che ha il pregio secondo me di riuscire a distoglierci un po' dalla quotidianità e dalla drammaticità degli eventi. Come attivisti, come militanti, come operatori, come persone che sono attenti ai fenomeni migratori, spesso chiaramente un po' rincorriamo la notizia perché è chiaro che un anno come quello passato o come l'inizio di quest'anno sono anni straordinari ma anche tragici da tutti i punti di vista e quindi abbiamo visto l'evolversi della situazione, ad esempio sulla rotta dei Balcani o comunque nel mare mediterraneo, spesso anche molto, è inevitabile, attenti al susseguirsi di fatti. Chiaramente in questo lasso di tempo è forse mancata anche la capacità di costruire un'analisi, di avere degli strumenti interpretativi in grado di capire la complessità dei fenomeni in atto. Non mi riferisco tanto al fenomeno delle migrazioni forzate che è chiaro sotto gli occhi di tutti, la cosa è determinato, ma in particolare mi riferisco anche a quella tendenza dell'Europa di costruire modalità di rispengimento, di blocco, di vere e proprie barriere sui propri confini esterni ed interni. Il libro parte, grazie a un'analisi chiara, giuridica, politica e sociale, a indicare come ad esempio Frontex sia una struttura, un'agenzia politica europea che in qualche modo ha determinato e continuerà a determinare la situazione sui confini europei. Quindi io partirei proprio in questa chiacchierata con Giuseppe partendo proprio dal fondo del libro, diciamo, dalla parte finale. Cioè cos'è Frontex e qual è stata un po' la genealogia di Frontex in questi ultimi anni? Grazie a tutti per essere qui, per avermi invitato, per darmi l'opportunità di parlare di questo libro. Voi siete i primi a presentarlo, un po' anche per problemi miei di ridotta mobilità in questo periodo. Che cos'è Frontex? Allora, Frontex è un'agenzia amministrativa. L'Unione Europea, come tutti sapete, non è uno Stato, è un organismo sovranazionale, di cooperazione, che organizza diciamo 28 Stati in questo momento e che si è dotata negli anni di diverse agenzie agenzie amministrative che erano deputate a realizzare gli obiettivi che l'Unione Europea si dava. Queste agenzie amministrative sono state classificate, distinte in vari modi, sostanzialmente sono diverse a secondo del settore della politica dell'Unione in cui operano. Quindi ci sono agenzie che sono vere e proprie agenzie regolative, cioè che hanno poteri regolativi di dettare delle norme che gli Stati poi devono adottare e seguire e ci sono invece agenzie di cooperazione, cioè che si limitano a coordinare il ruolo e l'azione degli Stati in altri settori della politica dell'Unione Europea. Tipicamente questa distinzione era tra l'area della giustizia e degli affari interni e l'area delle politiche economiche, di tutto ciò che riguardava l'integrazione monetaria, il mercato unico e via dicendo. Sul piano delle politiche economiche, monetarie l'integrazione era più progredita, era andata più avanti e quindi le agenzie europee avevano più poteri, erano capaci di penetrare più decisamente e di incidere maggiormente sulle politiche nazionali, sulla sovranità nazionale. Sul piano della giustizia e degli affari interni, cioè la cooperazione di polizia, il controllo sociale, le migrazioni, l'asilo, il processo di integrazione è andato molto più lentamente, i passaggi sono stati molto più lenti e negli ultimi anni, solo negli ultimi anni, solo di recente, hanno cominciato a fare capolino alcune agenzie. Le tre principali agenzie nella materia di giustizia e affari sono Frontex, Europol ed Eurojust. Frontex è sicuramente la più sviluppata, quella più progredita, proprio perché si occupa di coordinare il controllo delle frontiere esterne che le polizie nazionali svolgono. Ed è quella del controllo delle frontiere esterne una materia dove anche proprio a livello giuridico nei trattati si dice che il ruolo dell'Unione è maggiore, è una materia in cui gli stati hanno l'obbligo di seguire di più le indicazioni dell'Unione Europea. Tuttavia Frontex era ancora un'agenzia, cioè non era una polizia europea, è un'agenzia di cooperazione poliziesca, la differenza è sostanziale, cioè Frontex non è un corpo di polizia europea, non esiste un poliziotto europeo con una sua divisa eccetera eccetera. Frontex è un'agenzia che era chiamata a coordinare l'azione delle forze di polizia, delle forze di sicurezza nazionali e questo era un punto decisivo perché tutt'oggi, e questo lo specifico perché poi sicuramente parleremo di quale sarà il futuro, il destino di Frontex, viste le proposte che sono state avanzate di recente, tutt'oggi i trattati dicono che l'esercizio dei poteri coercitivi della funzione di tutela dell'ordine pubblico resta in capo agli stati, non è una prerogativa dell'Unione Europea e quindi l'Unione Europea tecnicamente non può avere una forza di sicurezza, cioè un apparato amministrativo che sia abilitato a usare la forza, una polizia, un esercito, deve mettere insieme e coordinare le polizie e gli eserciti dei vari paesi. Frontex era stata creata per fare questo, cioè per coordinare le polizie di frontiera nazionali. Ma appunto la genealogia di Frontex è molto antica, in realtà le sue radici affondano negli accordi di Schengen che come saprete furono stipulati fuori dal contesto dell'Unione Europea del diritto comunitario, inizialmente tra cinque paesi, la Francia, la Germania, i tre paesi del Benelux e poi piano piano questi accordi vennero estesi ad altri paesi per poi essere inglobati nel diritto dell'Unione Europea, solo più di recente col trattato di Amsterdam alla fine degli anni 90. Ecco, in quegli accordi si diceva che per eliminare i controlli alle frontiere interne tra i paesi membri dell'accordo era necessario sviluppare forme di cooperazione per controllare più strettamente, più attentamente, la nuova frontiera comune esterna. Ok, questo era un salto già sul piano geopolitico decisivo, cioè l'idea che esistesse una frontiera comune che dovesse essere gestita non secondo logiche puramente nazionali, ogni Stato fino a quel momento controllava la sua frontiera secondo i suoi criteri, secondo le sue prerogative sovrane. Adesso si diceva che la frontiera comune riguarda la sicurezza di tutti, riguarda la sicurezza collettiva, quindi nessuno Stato può più considerarsi pienamente sovrano sui suoi confini, ma deve perlomeno coordinarsi con quelli che all'epoca erano i partner, gli altri Stati aderenti agli accordi di Schengen. Quindi le radici di Frontex affondano nelle norme contenute nei trattati di Schengen in materia di cooperazione di polizia, cioè le norme che stabilivano come le polizie nazionali dovessero coordinarsi, comunicare tra loro e organizzare un poco il loro lavoro. Sì, faccio un passo indietro, innanzitutto mi sono dimenticato nella breve introduzione di dire che il libro è pubblicato da Deriva Prodi e che Giuseppe è anche un ricercatore, anzi soprattutto un ricercatore in scienze politiche dell'Università di Bari. Faccio un passo indietro perché mi ha colpito in particolare anche un capitolo del libro nel quale cerchi di analizzare il concetto di confine, perché attorno alla questione dei confini e al loro controllo comunque si sta ragionando anche di costruire un'idea di Europa unica che riesce a controllare dei confini esterni ma che al tempo stesso lascia la libertà di movimento all'interno dello spazio europeo. Questo lo fa essenzialmente per motivi economici, diciamo che il capitalismo attuale necessita della possibilità di dare la libertà di movimento soprattutto alle merci, i capitali lo fanno comunque, ma anche alle persone. In realtà attorno alla questione dei confini però iniziano a inserirsi anche dispositivi di controllo nuovi. Quindi non abbiamo semplicemente più confini esterni da presidiare, controllare, nel quale appunto l'agenzia Frontex si dovrebbe muovere per coordinare le polizie statuali, ma abbiamo anche poi confini interni tra non solo i territori ma anche in luoghi che sono ritenuti dall'agenzia come ruoli di elevato rischio. Sì, allora appunto questa era un'altra delle questioni decisive che mi interessava esplorare. Da un lato c'era la questione della crisi del concetto vestfaliano classico di confine. Quando parlo di confine vestfaliano mi riferisco al trattato di Vestfalia che comunemente si dice abbia fatto nascere il moderno sistema delle relazioni internazionali e quindi lo Stato moderno come un'entità politica chiusa con un territorio dei confini all'interno del quale è sovrano e che controlla quei confini sovranamente, liberamente, senza dar conto a nessuno sostanzialmente. Quando si dice crisi della concezione vestfaliana classica del confine si dice sia sul piano politico una crisi della sovranità, nel senso che nessuno Stato in Europa oggi può dire di essere pienamente sovrano sui suoi confini. Quello che, e lo state vedendo drammaticamente con quello che succede in Italia e in Grecia, quello che l'Italia e la Grecia fanno ai loro confini interessa moltissimo anche agli altri partner europei e gli altri partner europei si sentono in diritto di mettere in questione le scelte politiche di uno Stato sovrano come l'Italia e la Grecia, tant'è che qualcuno dice che la sovranità di paesi come questi soprattutto della Grecia sia ormai molto discutibile. Quindi, prima cosa, crisi del concetto vestfaliano classico di confine ed emergere di un'idea post-nazionale di confine, cioè un confine che è sempre gestito dagli Stati perché gli Stati continuano ad avere un ruolo decisivo e la polizia italiana che controlla i confini italiani si coordina con le altre polizie, è coadiuvata dalle altre polizie che insieme a Frontex vengono a collaborare con la nostra polizia, ma comunque è sempre l'apparato coercitivo che fa capo al nostro Ministero degli Interni ad occuparsi della gestione dei confini italiani. Però è post-nazionale perché l'Italia non può fare più quello che vuole, sempre di meno potrà fare quello che vuole. Altra questione che mi interessava era la questione della parente dialettica tra libertà e sicurezza o apertura e chiusura dei confini, se volete. Uno degli slogan non solo politici ma anche nel dibattito accademico, classici delle analisi sull'evoluzione delle politiche migratorie in Europa, era quello dell'Europa fortezza, cioè l'Europa che si chiude, che diventa una fortezza e via dicendo. In realtà ricostruendo la genealogia di Frontex, delle politiche di controllo della frontiera, si vede chiaramente che sono state politiche di taglio liberista a favorire l'emergere delle nuove forme di cooperazione poliziesche e poi di Frontex. Cioè il paradosso era che proprio mentre aumentava, si cercava di aumentare la libertà di movimento all'interno dell'Europa e l'Europa cercava quindi non solo di aprirsi al suo interno, alla libera circolazione ma anche di favorire il commercio, i flussi capitalistici di merci, di capitali e via dicendo, allo stesso tempo dovesse rafforzare le misure di sicurezza. Come dire, aumento di libertà andava di pari passo con l'aumento delle misure di sicurezza. Questo perché appunto il controllo, così come la libertà di movimento, erano gestite in maniera differenziale. Cioè sono, è come dire, che l'Europa gestisce regimi di mobilità diversi. Apre e chiude le frontiere in maniera geograficamente e socialmente strategica, per alcune categorie di persone, in alcune sezioni del confine. Non tutti i confini europei sono chiusi, sono presidiati alla stessa maniera, non tutte le persone al confine europeo o attraversando i confini europei subiscono lo stesso livello di controllo. E quindi il paradosso era che nella retorica istituzionale dell'Unione Europea, se uno legge i documenti ufficiali che portano alla nascita dello spazio di libera circolazione prima e di Frontex dopo, uno sente ripetere, quasi come un mantra, una formula che è identica da vent'anni. La libertà dipende dalla sicurezza. Senza sicurezza non può esserci libertà. Cioè è come se la nostra libertà potesse esistere solo se circondata da dispositivi immunitari di controllo. E Frontex è tutto il regime di controllo dei confini europei, è proprio questo, è una tecnologia di sicurezza, è una struttura immunitaria che consente la libertà di alcuni, la libertà di movimento di alcuni, controllando, limitando la libertà di movimento di altri. Quindi il confine europeo oggi non è totalmente chiuso, come non è mai stato, ma gestisce gradazioni di mobilità, garantisce livelli diversi del diritto alla mobilità in contesti e a persone diverse. Sì, e in effetti questo oggi è molto chiaro perché vediamo che ad esempio sia per quanto riguarda le isole nel mare Geo, ma soprattutto rimaniamo anche al nostro paese, vediamo come questo modello di apertura e chiusura dei confini avviene anche in luoghi ben definiti. Ad esempio negli hotspot anche questo meccanismo di apertura per alcuni della possibilità di richiedere asilo e per altri invece il rispingimento, fa capire che in realtà questo concetto si sta estendendo proprio all'interno di luoghi che invece dovrebbero essere deputati all'accoglimento delle richieste d'asilo e quindi dall'accoglimento anche dei diritti fondamentali. In qualche modo Frontex è stata attaccata proprio perché soprattutto prima della tragedia di Lampedusa è stata vista semplicemente appunto come un'agenzia di controllo, senza un ambito umanitario. Frontex ha cercato dopo le tragedie in mare di darsi anche un nuovo ruolo in qualche modo, quindi un ruolo umanitario. Fatto sta che spesso, erroneamente, sentiamo parlare di Frontex come anche un'operazione umanitaria. Rispetto a questo nel libro invece spieghi molto bene che Frontex ha dovuto semplicemente darsi una forma umanitaria ma che poi nella sostanza non sta facendo quel tipo di intervento umanitario e quindi ad esempio è legato ai salvataggi in mare. Sì, diciamo che Frontex e l'Unione Europea sono degli attori umanitari piuttosto reticenti. Ora, sempre per riagganciarmi un attimo a questo discorso dei diversi gradi di apertura e di chiusura, quando io cerco di descrivere la geopolitica del confine europeo, dico essenzialmente il confine europeo, il confine dell'Europa, lo spazio europeo, si può distinguere in due modelli essenziali. Da un lato il confine come network, come rete di punti di controllo, e che è il tipo di confine attraverso cui passa la stragrande maggioranza di cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen. Si dice nell'ultimo anno circa 300 milioni. E sono gli aeroporti o le stazioni ferroviarie internazionali, cioè sono i hub dei network della comunicazione e del trasporto globale che sono i punti attraverso cui transita la maggior parte delle persone che entra in Europa e tra l'altro la stragrande maggior parte di persone che poi magari diventa un migrante, si ferma qui per lavorare ed entra con un visto turistico attraverso un aeroporto. Dopodiché c'è la zona di frontiera o lo spazio di frontiera. La zona di frontiera è composta da un'ampia fascia territoriale che include sia paesi europei che i paesi terzi vicini e che l'Europa gestisce con rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale come uno spazio ibrido. Il confine qui non è una linea, ma è una zona un po' più ampia in cui la polizia della frontiera si muove e l'obiettivo qui è tentare di evitare, per tanti anni l'obiettivo è stato quello di tentare di evitare che potenziali migranti irregolari che giungevano soprattutto via mare raggiungessero il territorio di uno dei paesi membri e quindi l'area Schengen. Quindi l'obiettivo era quello di anticipare i controlli il più possibile. Per tanti anni questo obiettivo è stato perseguito in maniera molto decisa e se uno legge i rapporti di Frontex, Frontex descrive le prassi soprattutto di Spagna e Italia che avevano degli accordi con Senegal, Mauritania per quello che riguarda la Spagna e la Libia, come sapete tutti, per quello che riguarda l'Italia come i modelli da seguire, le best practice. Io ricordo i rapporti di Frontex a cavallo tra il 2008 e il 2009 in cui ci si complimenta con l'Italia per gli accordi con la Libia per il modello di gestione del confine del Mediterraneo centrale con la Libia come il modello da seguire. Ora, ci sono stati dei punti di rottura decisivi in questo modello di gestione soprattutto della frontiera meridionale che secondo me sono sostanzialmente due. Da un lato naturalmente le primavere arabe le primavere arabe hanno cambiato lo scenario geopolitico hanno cambiato in molti casi i partner sull'altra sponda non si è trovato più partner con cui dialogare. l'Italia ha provato subito a riallacciare le relazioni con la Tunisia in qualche misura ce l'ha fatta ha stipulato subito degli accordi di riammissione per il controllo della frontiera con la Libia evidentemente questo non è più stato possibile perché fino ad adesso non esisteva un governo con cui relazionarsi. E quindi, mutamento dello scenario geopolitico e quindi non esistevano più quei regimi a cui noi si faceva fare il lavoro sporco. Altro punto di rottura decisivo prima ancora della tragedia del 2013 di Lampedusa che scatenando una reazione emotiva è sembrata cambiare anche l'approccio dell'Unione Europea ma questo mutamento è stato apparente secondo punto di rottura decisivo fu la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani nei sui respingimenti dell'Italia verso la Libia. Ecco, quella sentenza fu un punto di rottura drammatico perché costrinse anche l'Unione Europea non solo l'Italia ad ammettere che quelle pratiche non erano più politicamente sostenibili oltre che appunto una violazione chiara dei diritti umani della Carta Europea sui diritti umani. Ecco, da quel punto in poi quella strategia non è più politicamente sostenibile e non è un caso che se è dopo quella condanna che l'Italia comincia a gestire la sua frontiera nel Mediterraneo centrale certo c'è stato un avvicendamento nei governi di questo paese e quindi anche un parziale cambiamento dello scenario politico a livello nazionale ma un'operazione come Mare Nostrum che non a caso dai partner europei è stata giudicata come un servizio di taxi e alcune ONG l'hanno invece salutata come l'apertura di un canale o di un corridore umanitario di fatto non a caso un'operazione come Mare Nostrum viene lanciata dopo queste condanne cioè ecco, da quel momento in poi ci si rende conto che le operazioni di respingimento non sono più sostenibili dal punto di vista giuridico politico e che quindi in qualche misura i migranti intercettati o soccorsi in mare devono essere fatti sbarcare e quindi il fronte della lotta contro le migrazioni irregolari via mare si sposta sul territorio europeo dove gli oneri che gli stati devono rispettare in termini di diritti di convenzioni internazionali di cui sono vincolati sono molto più più gravosi ed è da quel momento lì che il sistema di controllo della frontiera euro-mediterranea entra in crisi fatalmente perché si scatena insomma lo scontro diplomatico che è ancora in corso e che abbiamo tutti sotto gli occhi su chi deve farsi carico dell'onere dell'accoglienza cioè di persone che noi non possiamo più respingere o affidare alle cure delle polizie libiche o tunisine dobbiamo farli sbarcare di qua una volta che sono sbarcati di qua chi se ne deve fare carico? è l'Italia o è un problema europeo? è la Grecia o è un problema europeo? e questo è lo scontro diplomatico che da due anni e mezzo a questa parte sta mettendo in crisi il sistema Schengen si lo sta mettendo in crisi a tal punto che oggi siamo arrivati a una situazione nella quale molti paesi stanno mettendo in discussione lo stesso trattato di Schengen o perlomeno ripristinando i controlli della frontiera rischiano di mettere in discussione il trattato i paesi in questo momento che lo stanno facendo sanno benissimo che si innescherà un effetto domino quindi sono partiti i paesi del nord Europa chiaramente l'effetto domino andrà sui paesi della rotta dei Balcani ma anche sugli altri paesi quindi Germania Austria è chiaro che in tutto questo vediamo come in realtà non siano finiti gli sbarchi cioè nel inizio anno comunque dall'isola ad esempio di Lesbo arrivavano dati che ci dicono chiaramente che al giorno sbarcano circa mille persone ecco in tutto questo per tornare appunto al discorso anche umanitario che Frontex sta cercando in qualche modo di far passare come un intervento sulle loro spalle secondo me sta anche all'interno di uno stesso rifinanziamento di Frontex effettivamente scusami sulla questione del ruolo umanitario di Frontex poi parlando me ne ero dimenticato ecco c'è appunto Frontex e l'Unione Europea come attori umanitari molto reticenti ecco la vicenda Mare Nostrum e a seguire Triton l'operazione di Frontex è emblematica nel senso Mare Nostrum dura un anno e costa 140 milioni di euro una cifra enorme considerate che in media nel libro ci sono le tabelle diciamo le più costose operazioni di Frontex quelle Poseidon quelle nella zona del Mediterraneo orientale che usavano 9 milioni 10 milioni di euro all'anno quindi parliamo di 140 milioni di euro e costa così tanto perché l'Italia mette in campo mezzi militari cioè i mezzi militari che possono andare in alto mare addirittura in acqua territoriali libiche quindi che hanno una portata anche proprio la capacità di controllare tratti di mare molto più ampi e quindi di intervenire di soccorrere più persone perché prendere a bordo 300 400 persone da una barca che è in grosse difficoltà implica che tu devi avere dei mezzi navali che ti consentono di fare un'operazione di trasbordo in sicurezza Frontex non aveva mezzi di questo tipo cioè Frontex non aveva mezzi militari aveva diciamo mezzi tipo quelli della guardia costiera per intenderci che sono imbarcazioni molto più piccole quindi costa così tanto perché l'Italia mette in campo la marina militare che coordina l'operazione e lo fa la marina militare diciamo lo fa con un'impostazione prevalentemente umanitaria cioè pescare le persone in mare e sbarcarle nel porto più sicuro cioè l'Italia perché in Libia evidentemente non si potevano più respingere indietro quelle persone Frontex allora a un certo punto l'Italia diciamo invoca l'intervento dell'Unione dice l'Unione deve farsi carico di questo problema deve subentrare all'operazione Mare Nostrum Mare Nostrum non può andare avanti all'infinito l'Europa dice ok noi subentreremo con la nostra operazione Triton però Triton avrà un raggio d'azione molto più limitato cioè 30 miglia dalla costa cioè la zona contigua come si dice in diritto internazionale non andrà nelle acque internazionali tutto quello che succede nelle acque internazionali dice l'Unione Europea non ci interessa muoiono pure affoghino non ci interessa perché noi non facciamo operazioni di search and rescue cioè di ricerca e soccorso le operazioni umanitarie noi dobbiamo controllare la frontiera e la frontiera finisce alle 30 miglia che è la zona contigua le acque internazionali sono la terra di nessuno noi non dobbiamo presidiare le acque internazionali quindi Triton nasce come un'operazione e viene approvata solo perché viene presentata come un'operazione di controllo delle frontiere ok non umanitaria non di salvataggio non un servizio taxi come si diceva volgarmente per portare i migranti e soccorrerli qua tant'è che se uno legge i piani operativi di Frontex qualcosa è circolato tramite State Watch i tecnici di Frontex che poi sono sempre militari lo dicono se noi andiamo a soccorrere come facevano con Mare Nostrum i migranti in alto mare noi favoriamo i trafficanti perché i trafficanti hanno ormai capito che poi arriva la nave della Marina Militaria Italiana a soccorrerli quindi abbandonano le barche arrivano al limite delle acque libiche e le abbandonano in alto mare dove poi arriverà la nave allora questa prassi favorisce il traffico internazionale quindi noi assolutamente non lo dobbiamo fare Frontex e Triton viene approvato con questo mandato come operazione di controllo delle frontiere non un'operazione umanitaria è solo la tragedia dell'aprile 2015 a cambiare lo scenario allora lì di fronte all'ennesima tragedia naufragio con centinaia e centinaia di morti allora il mandato di Triton viene esteso i fondi a disposizione di Triton vengono triplicati anche i mezzi a disposizione di Triton vengono potenziati soprattutto l'operazione viene fornita di mezzi navali in grado di operare in acque internazionali quindi di agire diciamo con un approccio un po' più umanitario votato alla ricerca e al soccorso questo giusto per dare l'idea dell'approccio umanitario di fronte si tornerei anche sulla questione hotspot il sistema hotspot è comunque in questo momento attraverso una circolare tra l'altro il ministero che in questa road map che dovrebbe anche in qualche modo non si capisce bene come visto che rimangono nel limbo da un punto di vista giuridico però dare le direttive su come appunto operare all'interno degli hotspot se ne sono aperti due in Italia il terzo a breve aprirà a Pozzallo e in Grecia in questo momento ce n'è uno attivo sull'isola di Lesbo in realtà anche in Grecia dovrebbero aprire a breve altri hotspot sugli altri isoli del mare Geo Frontex opera all'interno degli hotspot e quindi in qualche modo la stessa agenzia è in questo momento chiamata in causa soprattutto per una nuova modalità che è quella di distinguere in base alla nazionalità di provenienza quindi in base al profilo etnico chi può avere appunto diritto a fare domanda di asilo e chi invece non ha diritto ecco rispetto a questo dal dal tuo studio dalla tua ricerca emergeva già come Frontex lavorasse rispetto all'identificazione di alcuni profili diciamo etnici precisi sì questo emergeva allora la mia ricerca si chiude io ho finito di scrivere il libro a settembre ho fatto in tempo ad ascoltare Juncker al Parlamento europeo che annunciava la proposta che poi sarebbe stata presentata il 15 dicembre sulla nuova agenzia la nuova polizia della frontiera europea e a leggere le prime circolari sugli hotspots ora sì Frontex è un'agenzia ora naturalmente anche la copertina del libro evoca immediatamente la questione dei controlli delle migrazioni via mare eccetera in realtà la copertina del libro doveva essere diversa doveva essere una foto di Adrian Paci che è un fotografo albanese che ha fatto questa serie di fotografie su migranti sulle scalette di un aereo che porta verso nulla proprio perché appunto gran parte di questo libro è dedicato alle attività di Frontex negli aeroporti cioè ha quindi tutto il ruolo delle banche dati della sorveglianza e del profiling di rischio dei migranti cioè di come Frontex diciamo istruisca le polizie nazionali ad operare una discriminazione tra i migranti a rischio e i migranti non a rischio da fermare negli aeroporti da sottoporre a misure di sorveglianza o meno negli aeroporti e questa è tutta una parte dell'attività di Frontex diciamo di cui si parla meno se ne è parlato un po' dopo gli attentati di Parigi più recentemente perché appunto la proposta di approvazione della banca dati sui dati dei passeggeri dei voli ha ricevuto un nuovo slancio in realtà è una proposta che è in ballo da 10 anni ma non viene mai approvata per problemi di tutela della privacy però in realtà di Frontex si parla soprattutto rispetto alla questione delle frontiere meridionali delle frontiere marittime e quindi Frontex da sempre ha questa missione cioè quella di elaborare analisi di rischio e costruire profili di rischio per aiutare le polizie di frontiera a distinguere tra lo straniero da sottoporre a maggiori controlli e lo straniero da invece lasciar passare liberamente quindi Frontex elabora tecnologie di discriminazione molto sofisticate costruite sulla base del profiling dei algoritmi che diciamo distinguono le persone in base a categorie di rischio e allora questo sapere presumibilmente verrà portato negli hotspot per distinguere il potenziale richiedente asilo in buona fede dal richiedente asilo in mala fede e per farlo evidentemente questo è l'enorme problema legale prima di trattare la domanda d'asilo individualmente cioè farlo sulla base di categorie profili etnici statistici sapete che l'Europa propone di ammettere alla procedura di ricollocamento solo quelle nazionalità che hanno una percentuale di concessione della protezione internazionale è superiore al 70% cioè un criterio statistico che prescinde totalmente dal caso individuale che invece una procedura d'asilo è solo il caso individuale che dovrebbe contare certo il contesto del paese di provenienza viene preso in considerazione ma la domanda d'asilo la valuti individualmente è una procedura giuridica e Frontex naturalmente porterà questo suo sapere negli hotspot ma soprattutto secondo me il ruolo di Frontex negli hotspot non è tanto quello di controllare migranti e potenziare i richiedenti esilo quanto quello di controllare la polizia italiana o la polizia greca cioè la questione è Frontex vuole avvocare a sé quindi l'Unione Europea vuole avvocare a sé occuparsi direttamente della questione della registrazione di tutte le persone che arrivano cioè l'immissione dei dati biometrici delle persone che arrivano nella banca dati Eurodac che è quello che Grecia e Italia sono accusate di non aver fatto in questi ultimi anni cioè di non aver registrato le persone sbarcate sulle loro coste nelle loro isole infatti proprio su questo ultimo l'oggetto del controllo è l'Italia prima di tutto l'Italia infatti su quest'ultima cosa che dicevi è chiaro come ad esempio anche Frontex stia comunque arrivando a sostenere che è giusto prelevare forzatamente le impronte digitali quando sappiamo che però ci sono delle sentenze della Corte Europea nella quale invece si dice l'esatto contrario che contro il volere della persona non è possibile appunto fotosegnalare e registrare le impronte e questa è la vicenda ad esempio che sta succedendo a Lampedusa nella quale più di 200 persone provenienti dall'Eritrea si rifiutano appunto di farsi registrare hanno utilizzato una tattica nella quale sono riusciti a convincere non si capisce come i capi i leader della protesta di questi 200 persone e molto probabilmente riusciranno grazie a questa strategia anche come dire sul medio periodo a poi registrare anche tutti gli altri è chiaro che però cioè ci troviamo di fronte a uno scenario che comunque dà dei poteri anche eccezionali se vogliamo a questo tipo di di agenzia è chiaro non c'è ancora una polizia europea però in dicembre appunto il 15 dicembre nel vertice straordinario che c'è stato uno dei punti all'ordine del giorno era proprio quello della costituzione della polizia di frontiera proprio per dare pieni poteri nel poter muoversi liberamente rispetto a queste rispetto insomma alla modalità anche di operare ci sono tante cose un'ultima cosa sugli hotspot sul dramma degli hotspot perché il dramma è che la base legale degli hotspot è debolissima se non inesistente non esiste nel diritto europeo perché gli hotspot sono stati previsti da documenti di indirizzo politico amministrativo che non hanno nessun valore giuridico cioè non sono né direttive né regolamenti né decisioni del consiglio che sono gli unici strumenti giuridici legalmente vincolanti le fonti del diritto europeo e hanno una base legale nel diritto italiano che dire definire precaria è poco nel senso che la politica degli hotspot viene inaugurata in settembre tra settembre e ottobre l'Italia pubblica la roadmap che è una circolare del ministero degli interni in agosto era stato approvato era stato approvato è entrato in vigore poi ad ottobre il decreto che recepiva la direttiva europea la nuova direttiva europea sull'accoglienza questo decreto ridisegna completamente il sistema dell'accoglienza il sistema dei centri di accoglienza per migranti quindi lo SPRAR e dice che per il primo soccorso la prima assistenza continua ad essere svolta nei centri creati ai sensi della legge cosiddetta Puglia la legge del 95 che creò i primi centri d'accoglienza in Italia ora quella legge è drammatica dal punto di vista anche proprio costituzionale perché è una legge che prevede una detenzione perché nei centri di accoglienza come quello di Lampedusa o come quello di Otranto si risiede in regime di detenzione non si può uscire da quei centri ed è una legge che prevede quindi una forma di detenzione extra ordinem cioè senza convalida da parte di un organo giurisdizionale come prevederebbe la nostra Costituzione quindi non c'è un controllo giurisdizionale su quella detenzione lì e allora spesso si sa a Lampedusa i migranti hanno atteso settimane mesi prima di poter transitare verso altri centri eventualmente vedere un giudice un avvocato eccetera allora il rischio noi abbiamo gli hotspot che sono creati con questa base giuridica qui quindi nessun controllo giurisdizionale in luoghi remotissimi perché Lampedusa certo ci sono molti militanti che presidiano però voi non voi resta un luogo lontano remoto difficile da raggiungere Otranto Cagliari Elmas anche se diciamo ha un ruolo minore e poi quelli in Sicilia dove tra l'altro l'Europa invita l'Italia a prevedere la base legale per l'adozione di misure coercitive come dici tu l'uso della forza per chi non vuole farsi prendere le impronte quindi al di fuori di qualsiasi garanzia giurisdizionale l'Europa chiede all'Italia di concedere alla polizia il potere di usare la forza per prendere le impronte digitali e di prevedere la possibilità di punire chi non coopera chi non si fa identificare con lunghi periodi di detenzione quindi prolungare la detenzione delle persone che non si fanno identificare come a dire da qua non esci fin quando non mi dai le impronte digitali sempre senza aver visto un giudice cioè in violazione della nostra Costituzione quindi questo è diciamo uno scandalo giuridico un dramma dal punto di vista giuridico legale e su cui sicuramente bisognerà battagliare sulla questione degli hotspot poi la questione di cosa sarà di Frontex se evolverà in una vera e propria polizia un corpo di polizia di frontiera europeo che eventualmente si mette a controllare i confini italiani e greci anche contro la volontà dell'Italia e della Grecia questa è una bella questione nel senso la proposta cosa dice la proposta è una proposta molto ambiziosa è stata presentata con molta enfasi una grande conferenza stampa intervento al Parlamento europeo in seduta plenaria summit straordinario subito dopo il giorno dopo quindi è una proposta su cui c'è stato un forte investimento politico da parte della commissione ok ed è una proposta ambiziosa perché non è un semplice emendamento al regolamento di Frontex come ne sono stati fatti tanti da quando Frontex è nata almeno tre che hanno modificato dando più poteri all'agenzia Frontex e questo è proprio un nuovo regolamento cioè un riscrivere alla normativa di Frontex e cambiargli probabilmente anche nome per dargli poteri radicalmente diversi fino ad oggi appunto come vi dicevo prima Frontex era un'agenzia di mero coordinamento ok quindi si limitava a lanciare operazioni congiunte come vengono chiamate cioè operazioni fatte da più polizie nazionali con il coordinamento di Frontex ciascuna operazione congiunta aveva base in un paese ospitante e però questa operazione veniva lanciata con il consenso del paese ospitante spesso su richiesta del paese ospitante e comunque veniva diretta dal paese ospitante cioè dalle forze di polizia dalla polizia di frontiera del paese ospitante ok nei dieci anni di attività Frontex aveva sviluppato diciamo un modello abbastanza preciso di operazioni congiunte c'erano quelle nel Mediterraneo centrale quelle nel Mediterraneo orientale quelle nel Mediterraneo occidentale quelle negli aeroporti avevano dei nomi era ormai un modello un paradigma abbastanza chiaro ma c'era comunque coordinamento c'era l'accordo tra i paesi perché la partecipazione era sempre volontaria e per lanciare l'operazione congiunta ci voleva il consenso del paese che lo ospitava quello che si propone adesso è di creare un corpo permanente di polizia nel senso che i paesi devono mettere a disposizione della nuova agenzia chiamiamola Frontex Bis o Frontex Plus forze ok uomini e sono obbligati a farlo e quegli uomini sono vincolati cioè sono a disposizione di Frontex Plus e questa agenzia può intervenire nei punti di crisi laddove si verifica un problema laddove un paese è accusato o si pensa che quel paese non stia controllando in maniera adeguata un tratto della frontiera europea questa agenzia può intervenire anche contro il parere del paese in questione quindi come dire noi riteniamo che l'Italia non controlli bene le sue frontiere Frontex Plus viene a Lampedusa e controlla la nostra frontiera al posto nostro questo è un salto enorme è un salto enorme su più profili qualcuno dice beh vabbè ma che c'è di strano io ho avuto una discussione con Chiara Favilli che insegna diritto dell'Unione Europea a Firenze associato di diritto dell'Unione Europea a Firenze e lei mi diceva vabbè ma le operazioni di peacekeeping gli interventi dell'ONU delle forze ONU delle forze di pace ONU in fondo sono simili le forze di pace i caschi blu sono corpi militari composti da forze di sicurezza provenienti da tanti paesi che sotto la direzione dell'ONU del comando strategico dell'ONU intervengono in un determinato contesto il piccolo particolare è che il peacekeeping o le forze di interposizione interviene sempre o sul richiesto o con il consenso del paese in cui si interviene altrimenti siamo di fronte ad un intervento armato ad una violazione della sovranità nazionale che ha tutto diciamo un altro quadro giuridico quindi una proposta di questo tipo è molto problematica anche dal punto di vista della tenuta giuridica perché dal mio punto di vista implica la necessità di riformare i trattati perché è una messa in discussione chiarissima della sovranità nazionale su uno dei punti più simbolici della sovranità nazionale cioè il presidio dei confini con la creazione di una polizia di un apparato coercitivo alle dipendenze di un organismo sovranazionale che è del tutto inedito nella storia cioè è il primo caso di questo tipo qualcuno dice è un passo verso una struttura federale cioè l'Unione Europea già fa un passo verso la forma federale Stati Uniti d'Europa e via dicendo chiaramente è un passo molto azzardato perché si fa in assenza di legittimazione democratica perché uno Stato federale ha anche un Parlamento e un governo eletto dal popolo e lo si fa in un momento che definire di turbolenza politica è un eufemismo perché insomma io dubito che l'accordo su questa proposta sia facile da raggiungere e parte di quell'effetto domino del ritorno delle frontiere nazionali o dei controlli alle frontiere nazionali che è più precisa come definizione è parte di una strategia di terrorismo politico alcuni paesi europei stanno dal mio punto di vista chiaramente minacciando i paesi frontalieri quelli più reticenti ad accettare questa riforma ad accettare questa cessione di sovranità dicendo badate che facciamo saltare Schengen badate che è a rischio Schengen questo è il classico meccanismo di securitarizzazione o di terrorismo politico cioè si minaccia una crisi politica una tenuta del sistema addirittura dell'Unione Europea per convincere alcuni ad accettare una riforma diciamo molto ambiziosa molto delicata che implica una cessione di sovranità sostanziale sui confini e soprattutto così facendo si condiziona l'opinione pubblica cioè il dibattito su questa riforma sarà fortemente condizionato dal terrore dal terrore di perdere la libertà di circolazione dal terrore di perdere quel poco di vantaggi che la cittadinanza europea concedeva ai cittadini europei questo è un tipico meccanismo di terrorismo politico dal mio punto di vista Un'ultima domanda poi lascio anche a chi volesse intervenire la possibilità a me viene in mente che in questo momento la scelta anche di forzare magari rispetto alla costruzione di una polizia europea è legata molto dal ruolo di due paesi che sono extra europei uno è la Turchia e l'altro è la Libia cioè in qualche modo abbiamo visto che i grossi numeri di flussi arrivano soprattutto dalla Turchia chiaramente continua ad esserci una migrazione anche dalla Libia però in qualche modo proprio guardando anche i dati la rotta invece dal Marocco verso la Spagna è praticamente una rotta che non ha numeri non ha forzature di nessun genere sarà per il ruolo delle due enclave Ceuta e Meliglia sarà per altri motivi geopolitici sta di fatto che diciamo le due rotte continuano ad essere quella del Mediterraneo e si è aperta insomma la rotta dalla Turchia chiaramente ti chiedo cioè rispetto a questi due paesi se non diventano nell'immediato i due paesi che bloccano il fenomeno migratorio potrebbe esserci un'accelerazione nella costruzione della polizia di frontiera? Allora sì il ruolo della Libia e il ruolo della Turchia è decisivo cioè è sempre stato decisivo il ruolo dei paesi vicini in questa strategia di gestione della frontiera inteso come zona di frontiera come fascia un po' più ampia fascia territoriale che include anche i paesi terzi quella che nel gergo degli esperti dell'Unione Europea viene chiamata la politica di vicinato cioè l'Unione Europea ha sempre cercato attraverso le sue politiche di vicinato di coinvolgere i paesi terzi nel controllo della sua frontiera nella gestione della sua sicurezza interna qualcuno l'ha definita anche la governance esterna della sicurezza europea cioè coinvolgere i paesi vicini che sono esterni per gestire problemi di ordine pubblico interno cioè il controllo delle migrazioni ma anche la criminalità transnazionale il traffico di droghe e via dicendo terrorismo ora la politica di vicinato se uno legge il primo documento sulla politica di vicinato fu redatto da Prodi era la commissione europea di Prodi e Prodi parlava diceva sì noi dobbiamo con un immaginario geopolitico ambizioso diceva noi dobbiamo creare un anello di paesi ben governati attorno all'Europa quindi stabili sicuri in cui non ci siano problemi di disordini civili in cui anche si inneschi uno sviluppo di prosperità diciamo un inizio di sviluppo economico di prosperità e addirittura Prodi diceva potremmo immaginare di creare un'area di libera circolazione con il Mediterraneo questo nel 2003 2004 immaginate quante ere geologiche sono passate da allora cioè l'idea che il Mediterraneo diventasse un'area di libera circolazione ora poi con il tempo si è capito che i paesi ben governati erano che l'Europa cercava erano più che altro paesi fermamente governati cioè paesi in cui ci fossero regimi stati di polizia che noi finanziavamo a cui noi davamo mezzi e che facessero il lavoro sporco detto volgarmente cioè che si occupassero di gestire quegli aspetti del controllo delle migrazioni che i paesi membri dell'Unione Europea per via dei vincoli giuridici come il fatto di essere parte della convenzione di Ginevra il fatto che esista una carta europea dei diritti umani eccetera le cose che non possiamo fare giuridicamente politicamente le facciamo fare a loro questo però ha reso come dire forti i paesi più spregiudicati la Libia di Gheddafi che della diplomazia delle migrazioni ha fatto il suo punto di forza per Gheddafi aveva ottenuto l'eliminazione dell'embargo prima cosa grazie diciamo a questa sua promessa di collaborare nel controllo delle migrazioni aveva per la prima volta la Libia era un paese con cui era vietato commerciare armi e per la prima volta ha iniziato a ricevere mezzi di controllo per le sue forze armate per la sua polizia di frontiera oggi la Turchia sta giocando lo stesso ruolo e cerca di negoziare sulla sua eventuale adesione all'Unione Europea oltre negoziare benefici economici che ha ottenuto 3 miliardi di euro ma anche in prospettiva la questione di riaprire la questione dell'adesione all'Unione Europea ma quello che hanno ottenuto questi paesi in questi anni sono stati diciamo accordi di visa facilitation cioè è stato più facile per i cittadini di questi paesi ottenere visti ma naturalmente non per tutti i cittadini di questi paesi ma per le elite sociali di questi paesi cioè coloro che mandano i figli a studiare in Europa i potenziali ricercatori gli uomini d'affari i politici diplomatici l'Europa per convincere questi paesi a collaborare nel controllo delle migrazioni ha concesso ha stipulato molti accordi di facilitazione nella concessione dei visti e questo fa parte di quel discorso del governare i regimi di mobilità il confine europeo è chiuso e aperto a secondo delle categorie sociali anche nei confronti dei paesi terzi alcune categorie sociali hanno un accesso ai visti europei molto più facile e questo è parte di una strategia di controllare i flussi migratori che transitano attraverso quei paesi un'ultima annotazione sul Marocco tu mi dici sì la rotta del Mediterraneo occidentale non è più diciamo al centro dell'attenzione è vero e non è un caso che all'indomani del suo insediamento Rahoi la prima visita come capo di stato all'estero che fece nel pieno delle primavere arabe fu in Marocco la Spagna ha fatto di tutto perché la primavera araba non si espandesse cioè che l'instabilità politica non si espandesse anche al Marocco no proprio perché diciamo il ruolo di quei regimi era cruciale per controllare la frontiera europea e la Spagna ha fatto di tutto per mantenere il regime al suo posto e per evitare che l'instabilità si espandesse anche al Marocco grazie Giuseppe ma io lascerei se c'è qualche domanda dal pubblico lo ringraziavo perché dopo otto mesi di lavoro nei porti siciliani con una grossa organizzazione non governativa finalmente mi è chiaro che cosa fa Frontex perché a vederli questi poliziotti che poi sono in camicetta magliettina e cappellino blu veramente non si capiva che cosa facevano cosa facevano che ruolo avevano all'interno dello sbarco e poi dell'accompagnamento per esempio a Pozzallo che è diventato un luogo indicibile veramente dal punto di vista di qualsiasi diritto umano e di accettabilità di vita là dentro anche solo per un giorno Pozzallo è un altro degli hotspot lì forse ecco lì forse mi era più chiaro Frontex stava esattamente nello stesso posto dove stava l'ufficio immigrazione quindi la polizia e probabilmente venivano utilizzati questi poliziotti europei perché avevano più conoscenza delle lingue rispetto ai poliziotti siciliani esatto proprio erano loro che facevano la pre-identificazione e l'identificazione per poi trasferire questi migranti o nelle altre regioni italiane il Veneto il Piemonte la Lombardia eccetera oppure farli rimanere lì dentro dentro questo CPSA che è veramente una prigione a tutti gli effetti dove i migranti non possono neanche uscire per fare due passi piuttosto che fumare una sigaretta quindi stanno chiusi tutti il tempo lì dentro allora veramente più che una domanda ti volevo ringraziare Giuseppe perché ci tenevo a venire stasera sono tornata da pochissimi giorni no in Veneto e veramente mi è stato molto utile per capire che qual è questo ruolo di Frontex e l'unica osservazione che ti faccio è non credo che la polizia italiana almeno per quella che ho visto io che poi è quella siciliana da Messina Palermo Trapani Pozzallo Augusta Catania o almeno lo stato italiano o la polizia di per sé non abbia tutta questa voglia di lasciare poi il controllo a questi personaggi della quale non capiscono neanche che cosa dicono veramente c'è un po' un tenere no il controllo non solo delle frontiere e quindi anche degli spazi territoriali ma quasi una gelosia rispetto no questa è roba mia cioè i migranti sono cosa nostra in Sicilia però no come dire un controllo veramente gestionale delle operazioni almeno dello sbarco che sono quelle che ho visto io e poi della gestione anche di questi hotspot anche in provincia di Agrigento ce n'è uno nuovissimo che è a Siculiana si chiama Centro Villa Sicania che da un giorno all'altro è diventato hotspot sì con un controllo della polizia quindi credo che ci sia un po' dalla parte dello Stato Italiano e dei poliziotti nello specifico proprio di non avere questa grande apertura di collaborazione ecco con questa polizia europea non so cosa ne pensi tu grazie facciamo un giro di domanda o di botte risposta se c'è qualche questo togliere la sovranità nazionale su alcuni aspetti e basta e sancire invece che su tutto il resto non è possibile penso che sia l'attenzione la cosa a cui fare più attenzione su cui costruire il massimo del possibile dell'informazione politica e dell'opposizione a questo tipo di iniziative penso che parallelamente a questo che è l'aspetto che riguarda l'emergenza dobbiamo pensare a cosa sta succedendo veramente e cosa è giusto fare e cosa è importante fare perché questa yacht spot è una cosa abominevole cioè già da noi l'uso delle commissioni e quello che sono le commissioni che analizzano le proposte di richiedenti asilo è una cosa su cui probabilmente è il caso di iniziare a fare una vasta campagna perché già lì siamo oltre il giuridico oltre il legittimo cioè la mancanza totale di requisiti che devono avere le persone che giudicano i ragazzi che sono ospiti qua nelle strutture di accoglienza dell'emergenza è una cosa che non sta né in cielo né in terra figuriamoci accettare su questo non aver sentito nulla che nel giro di una settimana tu riesci a giudicare una persona che ha fatto un anno di tragedia che ha vissuto le torture in Libia e tu riesci già a stabilire se questa persona ha diritto di asilo andando oltre ovviamente dicendo che è allucinante che ci sia ancora questa differenziazione tra chi si muove perché muore per fame o per problemi climatici o per qualsiasi altro motivo e chi si muove perché il suo territorio è più segnato dalla guerra che da altro cioè io penso che su queste cose noi abbiamo di fronte un periodo cruciale che sono i prossimi 10-15 anni in cui dobbiamo capire come riuscire a incidere e fare in modo che queste persone questa umanità questa ricchezza che ci sta arrivando possa essere utile e cerchendo di capire che è quello di cui abbiamo bisogno più che di quello di cui dobbiamo avere paura quello che anche ci raccontava Erika sembra proprio il sapore del commissariamento cioè c'è un'espropriazione della facoltà chiamiamola repressiva dello Stato italiano in questo caso da parte di altro che non è uno Stato che non ha un diritto autonomo perché non si basa l'Unione Europea sul diritto internazionale classicamente inteso e i giuristi sono anche un po' in confusione rispetto a che cosa sta nascendo cioè c'è un mostro sostanzialmente acefalo o pluricefalo perché non si capisce chi comandi che cosa cioè detto in una maniera un po' più elegante la sovranità chi la esercita non di sicuro un Parlamento non di sicuro una commissione non di sicuro una sorta di governo allora ciò che sta accadendo ha nettamente il sapore di uno slittamento di uno smottamento di pezzi di sovranità parte commissariati da agenzie pseudotecniche e credo che anche Frontex abbia questo sapore parte si ritira fuori dalla cassa degli zombie la mano invisibile e comanda il libero mercato nell'argomento specifico di questa sera tu pensi che Frontex possa fare questo salto di qualità e diventare il ministro delle frontiere e quindi assumere in sé il controllo della polizia di frontiera e garantire così come posso dire un perimetro che stabilisce un'area governata attraverso il suo confine cioè uno stato classicamente inteso si doterebbe di un esercito questo non è possibile sono decenni che l'Europa ci prova e l'unica cosa che c'è è un contingente di duemila uomini misto tra Francia e Germania che non esiste di fatto ma ciò che materialmente esiste sono i pattugliamenti congiunti in incognito della polizia tedesca a Gevgeglie il confine tra Macedonia e Grecia quest'estate mentre la rotta balcanica è diventata è diventata nota a tutti e anche noi ci siamo ci siamo affacciati a ciò che accadeva laggiù ciò che accade è appunto questo continuo stilicidio di piccoli eventi perché ignoti voglio dire no no noti piccoli nel senso che non c'è un quadro complessivo che li riassuma quello che ti chiedo è se in questo momento in cui l'Europa è un mostro malato che non funziona quant'è la possibilità che da qui a pochi anni Frontex diventi magari con un altro nome magari con un commissario suo deputato in commissione il ministro della porosità dei confini in qualche maniera allora parto dall'ultima domanda allora io ho letto la proposta cento pagine di proposta della commissione in mezzo a tante cose che sostanzialmente riprendono le regole già esistenti che diciamo riprendono il regolamento attuale di Frontex ci sono appunto le novità sono le due novità sostanziali diciamo le tre novità ma due veramente sostanziali una è quella che Frontex praticamente da ora in poi diventerà l'organismo che valuta il sistema Schengen cioè valuta come i membri di Schengen controllano le frontiere comuni quindi il commissariamento Frontex negli hotspot che controlla come i poliziotti italiani prendono le impronte come intervistano eventualmente si sostituisce a loro e via dicendo e fa i rapporti fa queste relazioni fa le relazioni che vanno alla commissione che ogni due anni pubbliche il rapporto sullo stato di Schengen e quindi una funzione di controllo e poi questa idea della possibilità di intervenire anche contro la volontà del paese interessato e l'idea che Frontex abbia a disposizione un contingente di uomini permanente cioè che non debba di volta in volta chiederlo agli stati ma gli stati lo debbano mettere a disposizione e questi agenti distaccati questi funzionari di polizia distaccati a Frontex restano a disposizione di Frontex non è che Frontex se ha bisogno di 300 persone in Grecia deve le mosinare non come è stato più di recente per dire che aveva bisogno di potenziare il personale presente in Grecia ha dovuto le mosinare e non ha trovato tutte le forze di cui aveva bisogno ora questo come dicevamo è un passo deciso verso la nascita di una forza di sicurezza post nazionale che è qualcosa di inedito perché diciamo nella tradizione dello stato occidentale l'esercizio di poteri coercitivi fa capo alla sovranità la sovranità anzi è definita come la facoltà di usare i poteri coercitivi in maniera autonoma e indipendente all'interno di un dato territorio questa è la definizione scolastica perché appunto il potere sovrano si basa sulla legittimazione democratica nella tradizione dello stato di diritto e quindi è l'esecutivo che gode di legittimazione democratica che controlla le forze di sicurezza ok creando un apparato di sicurezza post nazionale quindi sganciato da quei centri politici che attualmente godono della legittimazione democratica noi ci diciamo imbocchiamo un tunnel che non sappiamo dove ci porta perché a meno che l'unione non faccia un salto di qualità sul piano dell'integrazione politica decisivo diventando uno stato federale allora noi qua siamo veramente di fronte al rischio della nascita di una forza di sicurezza che non è controllata da nessun potere politico legittimato democraticamente cioè fa capo alla commissione ma la commissione ha una legittimazione democratica molto debole come sapete in più questa legge di regolamento quello che mi faceva ridere se non fosse tragica la questione è che si dice che questo corpo di polizia dipende disciplinarmente cioè ciascun funzionario di polizia distaccato a Frontex continua a dipendere dal punto di vista disciplinare quindi la sua carriera quindi eventualmente le punizioni l'obbligo di rispettare gli ordini gerarchici tutto quello che significa far parte di un apparato militare di una gerarchia di una burocrazia continua a dipendere disciplinarmente dagli stati ma funzionalmente politicamente prende ordini dall'agenzia quindi dalla commissione immaginatevi l'assurdità che poi appunto quando gli internazionalisti o i docenti di diritto dell'Unione Europea e i miei colleghi mi dicono è come il peacekeeping va bene a parte che il peacekeeping di fronte alle forze di interposizione sono state commesse le atrocità peggiori proprio per questa incongruenza il peacekeeping è la stessa cosa dipende funzionalmente dalle Nazioni Unite il corpo di pace ma disciplinarmente dai singoli eserciti e infatti quando ci sono contrasti politici nelle operazioni di peace enforcing o di peacekeeping i caschi blu sono paralizzati perché ciascun militare rischia di subire sanzioni dal suo stato e di se rispetta gli ordini che gli vengono dal comando strategico e allora noi avremmo un corpo di polizia della frontiera che potrebbe rischiare di trovarsi in una situazione analoga riceve un ordine dalla commissione ma al contempo dal suo ministero di riferimento gli dico non ti azzardare ad obbedire se obbedisci ti sbatto in Sardegna tanto per dire quindi un mostro giuridico una struttura assolutamente inefficace dal punto di vista politico insostenibile e il problema è che la commissione ha investito moltissimo in termini politici su questa proposta quindi ha fatto come al bar si direbbe il passo più lungo della gamba probabilmente cioè se questa proposta non passa come minimo la commissione si deve dimettere cioè perché veramente è la cifra di questa commissione di questa proposta è forse l'atto più simbolico la proposta più ambiziosa che Juncker fino a questo momento ha avanzato cioè subire una bocciatura su questo piano sarebbe gravissimo è chiaro che questa proposta sta su un piatto qualcuno dice sull'altro piatto cosa c'è? La riforma del sistema Dublino come dire ok noi accettiamo una cessione della sovranità se però allo stesso tempo riformiamo il sistema Dublino e quindi dell'accoglienza ci facciamo carico tutti però tutti voi sapete quanta reticenza c'è insieme all'Unione Europea rispetto alla questione di distribuire l'onere dell'accoglienza lo vedete con il piano di ricollocamento il New York Times ha calcolato che di questo passo per completare il piano previsto ci vogliono 750 anni quindi immaginatevi se la riforma di Dublino è un obiettivo sostenibile qualcun altro un po' più malizioso dice beh c'è la questione del patto di stabilità i paesi accetteranno una cessione di sovranità sui loro confini in cambio riceveranno maggiore flessibilità sui vincoli del patto di stabilità è un'ipotesi francamente non lo so quello che è certo e torno sulla questione del terrorismo politico è che questa riattivazione dei controlli alla frontiera l'Austria l'ultima qualsiasi è discusso tra Italia e Slovenia addirittura poi l'Italia ha smentito da Rimarca Germania via dicendo innanzitutto sono tutte riattivazioni dei controlli che vengono al momento fatti nel quadro della legalità nel senso che sono previsti dai regolamenti Schengen sono temporane e via dicendo ma anche qui è davvero la fine di Schengen o è di nuovo un nuovo modello di gestione delle mobilità differenziali cioè nel senso un cittadino europeo oggi se volesse attraversare il confine tra la Danimarca la Svezia a parte un po' di perdita di tempo incontrerebbe difficoltà no no perché non è cambiata la sostanza dei principi cioè i cardini della libera circolazione all'interno dell'Unione Europea non sono messi in discussione cioè nessuno sta dicendo tornerò a chiedere il visto agli italiani per venire in Francia nessuno sta dicendo tornerò a porre dei limiti alla libertà che gli italiani hanno o i francesi hanno di andare a vivere in Francia e via dicendo non è la sostanza della libera circolazione che viene messa in questione l'idea è di attivare punti di filtraggio punti di filtraggio che sono per noi cittadini europei probabilmente hanno un significato simbolico certamente la questione del ponte tra la Svezia e la Danimarca ha un significato particolarmente simbolico ma per noi cittadini europei si risolvono si risolvono in una scocciatura cioè il fatto che dobbiamo fare una fila al posto di frontiera ma non incontriamo nessun ostacolo attraversare il confine quindi la reattivazione dei controlli ancora una volta è selettiva cioè riguarda alcuni attraverso quel filtro loro vogliono bloccare i potenziali richiedenti asilo coloro che nell'ottica austriaca o tedesca dovrebbero essere stati fermati in Grecia e dovevano rimanere in Grecia no? e quindi si fa terrorismo politico quando si dice che l'area di libera circolazione è a rischio perché nessuno sta mettendo in discussione il diritto dei cittadini europei di andare a vivere in un altro paese europeo o di muoversi liberamente senza chiedere un visto perché questo significa circolare liberamente il potersi muovere senza dover chiedere un permesso un visto il potersi stabilire in un altro paese senza dover chiedere il permesso a nessuno anche se poi ci resti più a lungo comunque delle pratiche burocratiche le devi fare ma sono diciamo tutto sommato abbastanza semplici questo non viene messo in discussione cioè si riattivano i controlli di frontiera chiaramente con lo scopo di controllare alcuni questo naturalmente ha un impatto anche su di noi perché ci rallenta nel movimento ma ha un impatto economico decisivo per il trasporto su gomma da cui dipende buona parte degli approvvigionamenti delle fabbriche insomma le attività produttive che si basano sul just in time hanno bisogno di una certa fluidità nei trasporti è inconcepibile la fila di camion al Brennero semplicemente perché rischia di paralizzare le aziende allora questo è il vero la questione che sta veramente a cuore perché riattivare i controlli alle frontiere rischia di rallentare il commercio il traffico della circolazione delle merci che è anche uno degli aspetti più rilevanti cioè Schengen è nacque per questo poi fondamentalmente poi fu esteso anche le persone ma inizialmente era un mercato cioè l'idea del mercato unico allora per questo dico si sta facendo terrorismo politico sulla questione di Schengen si sta facendo terrorismo politico per condizionare l'opinione pubblica e io sento tanti commentatori e mi dispiace dirlo anche molti miei colleghi che dicono vabbè ma qualcosa si deve fare se no salta Schengen e allora noi digeriremo anche una proposta di riforma pessima di Frontex perché siamo terrorizzati dalla fine dello spazio dalla fine della cittadinanza europea addirittura dalla fine dell'integrazione europea io credo che veramente questa sia un'operazione di terrorismo di securitarizzazione della questione come periodicamente è successo nella nella storia europea un'ultima questione su gli hotspot e la detenzione amministrativa quello che sta succedendo oggi è che l'Italia sarà costretta a rilanciare la detenzione amministrativa degli stranieri noi veniamo da un periodo che è stato lungo tre anni più o meno in cui il governo italiano sembrava aver deciso di disinvestire sui CIE sulla detenzione amministrativa noi eravamo arrivati al minimo storico di posti disponibili nei CIE circa 500 da 13 che erano originariamente ne erano rimasti 5 aperti e davvero anche per il ruolo di alcuni parlamentari penso all'onorevole Marco Manconi al ruolo della commissione straordinaria per i diritti umani ma anche dei movimenti che si erano scatenati intorno ai CIE il governo sembrava aver deciso di disinvestire non so quanto per una riscoperta passione per i diritti umani o perché aveva notato che i costi di gestione in termini amministrativi economici anche politici di queste strutture erano molto elevati sembrava che sui CIE si fosse deciso di disinvestire oggi la detenzione amministrativa degli stranieri mi sembra sia stata rilanciata ma venga reinventata diventerà soprattutto detenzione dei potenziali richiedenti asilo dei richiedenti asilo cioè di coloro che sono giunti negli hotspot e vengono giudicati a prima vista come richiedenti asilo non in buona fede un po' come succede in Inghilterra in Inghilterra c'è la fast track procedure cioè una procedura accelerata che riguarda tutti coloro che vengono da paesi che sono considerati paesi sicuri o che comunque vengono considerati potenziali falsi e rifugiati tutte queste persone attendono l'esito della loro domanda di protezione internazionale in stato di detenzione e il grosso delle persone trattenute e detenute nei centri di detenzione per stranieri in Inghilterra sono appunto richiedenti asilo stessa cosa negli Stati Uniti ecco l'Italia va verso questo modello qui cioè la detenzione amministrativa dal mio punto di vista viene rilanciata oggi per i richiedenti asilo i potenziali falsi rifugiati quelli la cui domanda di protezione internazionale viene considerata pretestuosa e già è così perché l'attuazione della direttiva sull'accoglienza prevede che i tempi di massimi di detenzione che sono tre mesi per tutti gli altri saranno 12 mesi per i richiedenti asilo per chi chiederà asilo già avendo subito un provvedimento di respingimento di espulsione quindi va bene sì su questa ultima cosa molto probabilmente è il tentativo che l'Italia proverà ulteriormente per restringere tra l'altro è uscito da poco anche un comunicato di lasciate centrale nel quale si diceva non aprite quella gabbia di via Corelli tra l'altro i CIE sono stati chiusi dalle mobilitazioni ma anche dalle tante rivolte che sono scoppiate all'interno io ringrazio Giuseppe ringrazio voi per essere stati qua con noi vi ricordo che sì infatti il libro è disponibile sotto al costo di 13 euro e che poi Giuseppe sarà domani a Schio e dopo domani a Mestre quindi se avete amici conoscenti insomma volete consigliarli sapete che per altri due giorni sarà qua in Veneto con noi grazie a tutti grazie a tutti